Gratitudine per amici italiani. Voglio dire grazie a voi. Io sono molto felice perché i miei amici italiani solo sono gentili. Ho fatto pranzo qualche volta con loro nella nostra casa, mangiato spaghetti e carne insieme, bevuto vino e grappa e caffè, cantata canzone napoletana insieme. Durante pranzo noi sentivamo la bella ospitalità. Questo perché io adoro l'Italia, questo è bellezza d'Italia. Adesso io sto in Giappone perché questa situazione sembra continuare ancora. La realtà, quando sono arrivato all'aeroporto Tokyo mi si è allargato il cuore. Consolato tanto perché c'è solo giapponese, non c'è più discriminazione. Anche giapponese sono di fronte a problema, però loro lavorano sempre senza fermare mai. Nonostante il governo giapponese dice riposate riposate, però mai fermano. Loro sono troppo dirigente. Io spero che questa influenza ferma termine. Io spero di tornare a Italia. Giugno, maggio, non so. Speriamo andare bene. Forza Italia! Forza Napoli! Gampate!